mia se si toglie e rimette il follo non compare no mi disp allora eeeh il relic eh no io prende con la p eh tu puoi prendere il relic che comunque funziona no 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 prende la doran a questo punto non so quanto ci fai con quella contro chi siamo se no lì tende soldi contro blitz e secondo me è meglio a sto punto quell'altro doran cioè il doran shield il shield? cioè secondo me vedi te che cazzo prendi no vabbè doran shield doran shield è meglio si comunque cioè tipo ah quello lì rompere i coglioni vedi che domani ti dono grazie mille ma costa fare il follower no il follower è gratis è il sub che costa il sub è quello dove leggi abbonati mentre il follower se sei come youtube quando ti iscrivi nel senso stai rispammando di nuovo la mic è partito ragazzi è partito ogni tanto tipo si accende così e tipo la macchinetta aspetta che stanno scrivendo in chat su attenzione è partito guarda top guarda top il chase oh metà vita attenzione voglio vedere dove piazza l'altra shako box perché le ha piazzate così dove la mette ecco oddio ma perché è partito con l'hunter salisman che senso ha andiamocene è inutile pullare no è inutile ottimo pull non neanche preso magari se sfruttasse il fatto che è shako può fare il backstab ma no a lui non interessa no no ah è a pia ok ho capito tutto ragazzi ho già capito ragazzi ho già capito ragazzi tieni prendilo è un po' è un discreto danno se ci fai caso ma perché non ho la magic resist ho 34 di ap ah bellissimo oh li ho presi entrambi eh finchè non è la furia non so quanto convenga mamma mia ah no eh vabbè metà tieni guarda il poke non può far nulla bravo ok chi ti grabba io l'ho detto io l'ho detto no 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 non mi grabba non mi grabba non ce l'ha ancora e adesso ecco manca ancora qualche secondo ma guarda il 2 il 2 il 2 eh no the god the god aspetta sei pronto aspetta io non ho doppio oh si oh the god esplosioni rip rest rest in pip blitz stara scrivendo oh my god oh my god sia un up e support rectona di carry tieni blitz tieni tieni non si muove ma perché sta fermo quello sta fermo miglior modo che poi c'ha che poi c'ha una contra quel blitzcrank è il miglior modo di traduzione a quello è stata quella contra ebbè oh che cazzo ridi figlio di puttana ma io ho preso entrambi ho preso il blitz che ha detto e tu c'è la mazzoccola eh come ti permette vabbè sono abituato con cane lupo non è un problema ironia te sconosciuta ironia dabbed ma che cazzo state a scrivere tieni no ha doggiato stavolta io non volevo dirlo ma hanno un modo non è vero non ti grab hanno un modo un po' strano di giocare sembra blitz sta fermo quando l'altro si muove sembra che sia presenti tipo la stessa persona oh mettalo peccato ce la shoottavamo a quella però ho perso la vision in quel preciso momento è scaluta la guarda proprio precisa ok grab come ho fatto appena mi da vabbè niente oh vai 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 ci sono vai 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 shotta shotta è too late oh si 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 no grande era leggermente out of range ma ma poco bloccato il body block dei minion capita ho fatto quello sbagliato poi c'era tipo taglia sotto la tour lì che guardava tipo così aggrappato e dice ciao ci sono anch'io qua dietro è il primo grab che fa quello il bel cannon è the game ragazzi certo cannon è the game perché cosa sta facendo di strano sto cannon è the game ok vabbè mette time out vai mette un bel po' così non caga più la minchia x dev mic ecco a posto ho messo 100 un milione e duecienze e passa a secondi è pulito non posso non posso per così tanto non lo posso da mattare no ho sbagliato cazzo va benissimo perché ho l'improvviso un'estate eh lo so l'ho sbannato torri ho bannato rai 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 torri ti ho sbannato subito non tu orri non sei non sei stato punito nel frattempo c'è beats che sta fermo vedi so di poter mettere tipo un milione di secondi invece non si può fare non sono uno spammer cheat non sono uno spammer cheat perché karate cannon ah no ho capito appena posso vado a mettere il time out per un po' di giorni magari si ricorda la prossima volta oh non riesco più a prenderlo ho impreviso doge non capisco vedi che beats che sta fermo secondo me è tipo lo stesso che sta giocando con due pc guardalo vedi che è fermo immobile che dici tipo adesso ho cliccato un tasto poi fermo di nuovo non si capisce gioca in modo troppo strano questi bot bot mate 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 vedi sta fermo immobile secondo me ti giuro è la stessa persona che gioca con due pc non vedo altra spiegazione ora si muove blitz no niente no si muove luce non deve far male giustamente metto la control qua vabbè però non è neanche divertente così ciccio gamer non è grasso ma ha le ossa grosse prima stavo spammando tipo una foto di ciccio che dabba quanto gli ho tolto 100.000 ah si sai che questo qua è luce anche si fa la letality the god guarda lì guarda lì eccolo attenzione tieni si è mosso vedi ma si muove soltanto in una direzione secondo me non capisco ma perché stanno in train bot come l'ho mancata aia che ti tira le mosse stai attento vabbè niente fate train bot che vedevo di perde un po' di ex per quello oh flash attenta che grabba attenta che grabba no non grabba non solo ti hai non grabba ma l'aveva già grabbato oh oh sciacco 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 attento attento no ancora non aveva grabbato stava andando a dargli la mano non si sa amore non rischio si come fa tutto il gear giustamente c'ho la ulti anch'io la ulti anch'io oh no stavo scrivendo ok è evoluto eeeh eeeh ha bello adesso prende il comando di controllo di blitz vai ma rimani fermo no non capisco il suo gameplay è un po' strano amico si esatto serve un 50 gold clap grazie posso andare back andiamo 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 così posso prendere eeeh il frasqueen non capisco boh non comprendo va bene così lo sta facendo una qualche challenge strana oppure non ho idea ciao feric ma sti occhiali e guarda non mi muovo challenge quella lì dei dei manichini è presente che si la la manichine challenge ragazzi questa ulti era per per disorientarli non so se si era capito si si eh no è un esplosione assolutamente non perché ho misclicato mentre stavo scrivendo perché volevo era voluta esatto oh quello no ragazzi ti permetti donna il danno e qua niente sto slow fa veramente lezzo niga le scarpe per quello oh cosa fai impazzito schiacciato ah niente a quello non gli diciamo nulla tanto è una pianta letteralmente una pianta che gioca è tipo le piante delle landa è presente che ci sono nel fiume guardalo aspetta che lo prendo tieni mi feca un cazzo è da mezz'ora che stanno scrivendo 1v1 aspetta fermo che lì è il tiro glielo tiro addosso niente ah cazzo glielo tiro addosso vabbè lo deviamo che facciamo c'ha la ultima però può fare no no si è mosso molto bene adesso vorrebbe anche morire dai via le ho piccato l'ignite scappa oh ora Lucian niente Lucian ti stava guardando vabbè lo dai via e lo dai via anche lui tanto aspetta no no aspetta 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 clap sei pronto vieni 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 oh ha fatto lei avanti ta 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 La torre non so come stiamo messi Va nel dubbio prendiamola È la prima questa Ok facciamo anche i big money Mamma mia quanti soldi Il Drake Finchè Shako si sveglia Non lo facciamo Andiamo back Aspetta Però Shako Mamma mia L'ha detto Quanto sta la Shako? 2-1 Ottimo Non so se fammi la protobelt Quanto conviene la protobelt su Sion? Tanto? Ma si dai facciamocela Facciamocela Le Nike Eccole qua Ottimo Tra un po' le faccio anch'io Devo dare una mano alle altre lane Ah no non ho la ulti Blitz mid Si è mosso Si è mosso un po' Giusto un po' Ha cambiato lane nel dubbio Cosa si chiama? Alice FR Un nome una garanzia Vada Zero Non hai visto che ha fatto blitz Ha fasciato in avanti Di barrande Vai 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 Aspaltate Vieni qui Vieni qui Ma quanto gli ho tolto Tra la tua Q e la mia È stata un'ottima combo direi Oh Allora Facciamola facciamola Cazzo Stavo per stillarla Voglio vedere quanto danno fa la mia Adesso Oh Il niga Il niga Il niga Vieni 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 Vabbè C'ho la ulti C'ho la ulti Tra 7 secondi Vediamo la mia Quanto danno fa Ha pushato Ha usato la ulti sua Non ha più mana Non può scappare 10 più 5 È morto Esatto Vada Aspetta che Mo si rende conto Hello Vai 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 Da sopra Da sopra Te Non hanno Mamma mia Ma perché ha flashato Oh no Per una kill Il flash lo usiamo Tranquillamente Una kill Una kill Ebbè Direi Poi del resto L'ho usato anche lui Allora fa il drago Sì Oh Finalmente La sveglia Cioè nel senso È un inferno Che potevamo fare Tranquillamente Non so quanto tempo fa Vabbò Sì dai Vengo anch'io Nel dubbio Tiriamo questo Vediamo se c'è qualcuno No Non c'è nessuno A posto Ah Ehi Ve la push on a wave Poi Vado back I can't come I range Man but DJ I range Sarebbe in range Non c'è nessuno Non c'è nessuno Stai continuando a dire tipo Oh my god Do just one One by one Sì sì Ma che cazzo Dio Ah ah Sì non ho visto la cosa Non avevi visto il muro Di Trump Ah è brutta storia Il muro di Trump In messi con lo visto Rip messico ragazzi Il messico non sarà più come una volta Wanna be americano American Prossimo game Tampio Zilean No Ma c'hanno soltanto Oh mate Eh Oh Eh Oh Mia Attenzione Eh niente Ti ha doggiato È stato bravo È stato fermo nel cespuglio Insomma Molto bravo devo dire Qualitativamente ampio Come gameplay Ah ma è ancora qua eh Guarda Catarina Guarda come doggio Ormai imparato Tini Tini Beh Cosa c'è Oh C'è coltato C'è clone È esploso Arriva 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 Salumi Ah The god Piazzato ignite a 1 Ucciso quell'are Mua Mua Quality E Ha ha Ride Darius Ma non lo so Darius e Kennen Stanno giocando un game Per conto loro Ha flashato Per quale motivo Clap Aiuto Aiuto Pezziamo alla control qua Ok non ci sono walls Vieni 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 Aspetta Pezzo di merda Scappa Togli questa Ok Andiamo via Andiamo via C'è C'è Darius Ho capito Non serve a nulla Sono 5 La mid Sta tipo scendendo Non si sa che cazzo sta facendo Quel Darius Eccolo Eccolo Spammo le regalco Guarda E E E E E Do Parte il grab Oh Doge Ult Ult Non ha la ulti Quel Darius Ma io E io rip Quasi No Arrivo io Tranquillo Attenzione Shaco Shaco A P Oltretutto Shot al nigger Shotalo Rimosso Disinstallato proprio Quel blitzcrank lì è un ceppo di legno proprio Poi non so se hai notato la build Si è fatto il ruby crystal first item più chiuso Oh No dai volevo stillarlo Dove è? Fiere che che sono sti occhiali Eeeh Gli occhiali Eh t'ho detto Si è già evoluta proprio Senza motivo Non ha oggetti Esatto Vedi quanti oggetti Di cui sfruttarne l'attiva C'è Boh Lascia verne Madonna Esploda Cannon The God Gameplay Alta qualità Oh Come ti permetti Ma un ragazzo ti permetti Vai vai Prendete lui Ciao Ma cos'è oggi Con questa gente che spamma Cos'è Uno ha scritto tre volte Chi è Cosa sono sti occhiali Cosa sono sti occhiali Ma che cazzo ne so Cosa li prende Oggelo In ritardo Aspetta qua No Preso Guarda lo slow Guarda la catarina Oh Attenzione Oh Attenzione La spatolata Qualche bratello sta succedendo Attenzione il muro Il muro di Trump Scappiamo Vabbè dai Mi sono sacrificato Oh Oh Vieni qua Bella padre Mi ha fatto saltare Ah Peccato Alla Chisciaco Però poteva anche Non farla La collineretta Oh C'è ancora Oh Meno male che c'è un altro Che spamma Prossimo game Tamp più zile Io non ho parole Ragazzi Oggi Meno male Oggi Oggi Non so Cosa sta succedendo Alla gente Cioè Se non leggo i vostri messaggi Perché non me ne frega un cazzo Ragazzi Ok Se avete qualcosa Interessante Lo leggo Se non è interessante Non lo leggo Non è inutile che spammate Detto questo Le Nike oggi non sono da fare Sono da fare quelle magic pen Direi E questa Eh sì Per te sì Io le Nike Rimango fedele Tu rimani fedele Le Nike Bravo Sono le Nike Non sono precise Vabbè If we fight as five We rape them Incredibile Non l'avrei mai detto Anch'io Ma guarda C'è un altro inferno No Niente Mi ha rubato i minion Consigli per top laner Consigli per top laner Il tuo campo Cane lupo Cane lupo Un ottimo top laner Ragazzi Se lo usate vincete tutti i game Fermo Da Lucian Lucian Poveretto Prello Brain cancer Cem Cam Di cosa sta parlando Perché ha scritto Ha scritto È blitzcrank Vieni qua Clap Facciamoci questo È il secondo inferno Capito Mentre uccidevo Lucian Ha scritto brain cancer Cem Quindi evidentemente Ha preso subito La tastiera Con blitz Ha scritto Giusto Ti fa vedere quanto è bravo Oh Meno male ragazzi Che fidate un po' Darius Ah Almeno è un po' più divertente Sto game Esatto Altrimenti c'è Sto cercando di tankare Ma non è facile NP Darius lo uccidiamo Vediamo un po' com'è Ma è full vita ancora Come Cioè sono morti in random Ma forse ha l'astitato Ok Shaco fa così schifo Io mi trovo bene No non fa schifo Shaco Però a P non mi piace Sinceramente Poi dipende dai gusti Il buff ha dato una di carry Come Ernekton direi Beh direi sì Eccolo qua Ah Ma adesso come mi refullo In due secondi Ma regolare più venti Arriva 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 Vai quello è schiantato Scappiamo Ah Come ma Ma quanto mi ha tolto Con quella Q Non ho neanche flashato Ma mi ha shottato Con una Q Vabbè Vip G Ah Victory ragazzi Che bella Stasca difficile Queste bottlin Sono complesse Prossimo game Ah ok Qualcun altro che vuole il time out Qui ragazzi Avete triggerato clap Ragazzi eh S su Sion Attenzione The god Neanche Shaco l'ha preso Che ho fatto 10 3 set Ma Shaco va a meno farm di me Ma cos'è Ma Shaco ha 40 di farm Ma cos'è Io sono il top Ah sono il secondo Del top damage Del team 13 2 2 Non mi ha dato S Come ho fatto a fare i danni di cata io Ma Ma Questi AP carry qua Meno male che c'ero io a fare l'AP carry Al 30 guardate Ma veramente Sono veramente euforico Devo dire Bicchietto a sparare